C'è una poesia che dice 6x1, io mi giro in cella e vedo 6 letti, mi giro e vedo 6 visti, mi giro e vedo 6 piatti, mi giro e vedo 6 finestre, solo non ci sei mai, neanche nella tua intimità. Quindi il 6x1 si addice a qualsiasi detenuto del mondo e queste sono le sfumature più brutte perché non è che ci hanno tolto la libertà, ci hanno tolto qualcosa di dentro, nella personalità, la sessualità, ci hanno represso, queste sono le cose perché il carcere non è mai morto nessuno, non fa male a nessuno.